Allora, benvenuti, ben ritrovati, direi, è stato un po' di tempo. In questi ultimi due anni sono successe un po' di cose, direi, per lo più piacevoli. E quindi direi che ritrovarci oggi, siamo senza slide però, aspettiamo, eccoci qua. Due anni particolari, dicevamo, sono successe tante cose, e ritrovarci oggi, seppur in un contesto così speciale come quello del Festival del Giornalismo, a parlare di diritto d'autore, a me personalmente fa un po' effetto, perché insomma i temi del giorno sarebbero altri. E' anche vero che momenti particolari come quelli che abbiamo vissuto questi due anni così difficili sono spesso anche l'occasione un po' per resettare le idee, no? Per rimettere in discussione alcuni processi ai quali evidentemente c'eravamo anche un po' a suoi fatti, e in certi casi è anche un drive per riorganizzare le modalità delle nostre vite, a 360 gradi, direi. Io credo che se c'è una lezione che abbiamo imparato in questi due anni, è quella che riguarda il valore che dobbiamo attribuire allo scambio della conoscenza, i processi di condivisione delle idee, delle informazioni, del sapere. E almeno dal mio punto di vista questo deve essere necessariamente un punto di ripartenza. Un punto di ripartenza è una lezione che dobbiamo sforzarci di non dimenticare. D'altra parte chi come noi studia queste tematiche, i giuristi, sono anche chiamati all'ingrato compito, mi verrebbe da dire giusto per alimentare e consolidare la reputazione già particolarmente simpatica che hanno gli avvocati tra la popolazione, ma siamo chiamati anche al compito di trovare certe volte un equilibrio, un punto di incontro necessario, un bilanciamento, nella tutela di interessi che qualche volta possono essere anche confliggenti tra loro. E diciamo che nel nostro ordinamento, come in quasi tutti i sistemi di diritto, i processi di condivisione del sapere, condivisione dell'informazione, scambio di documenti, scambio di notizie e informazioni, incontrano tre limiti fondamentali che sono connessi all'applicazione di tre discipline fondamentali, che sono la disciplina sul diritto d'autore, le normative che proteggono tutte quelle informazioni che potremmo genericamente classificare come segreto industriale o informazioni confidenziali, e quindi in tantissimi ambiti, compresi quelli per esempio del segreto di Stato, quindi i segreti che riguardano la gestione e l'organizzazione della politica, e sicuramente la normativa in materia di protezione dei dati, che sappiamo rappresenta un altro limite, un altro aspetto che dobbiamo considerare nel momento in cui decidiamo di condividere dati e informazioni. Questi tre grandi ambiti del diritto, in realtà, e questo è un punto chiave dal mio punto di vista, proteggono i dati, le informazioni e le notizie, ognuno in una prospettiva differente. Cioè il diritto d'autore protegge un contenuto che ha un carattere spiccatamente creativo. Può essere una fotografia, può essere un articolo di giornale, può essere un audiovisivo, ma certamente affinché la normativa autoriale entri in gioco, in un certo senso limitando la facoltà di condividere o meno un'informazione, questo contenuto deve presentare queste caratteristiche di creatività. La normativa, e sono più di una in realtà, che proteggono il segreto industriale, hanno a che fare invece con un'informazione che è confidenziale per il contenuto che veicola. Potrebbe essere un dato, un'informazione che di creativo non ha nulla, e che quindi noi sotto il profilo autoriale potremmo tranquillamente condividere senza la necessità di ottenere una licenza, senza la necessità di avere un consenso dall'autore, ma incontriamo un limite nel divulgare, nel pubblicare, nel diffondere quella notizia, perché il contenuto in sé di quella notizia veicola, per esempio, un segreto industriale, lo studio di un brevetto, piuttosto che informazioni riservate di qualunque tipo. E poi abbiamo un terzo ambito di indagine, che è quello che riguarda la normativa in materia di protezione dei dati personali, come ridefinita, ormai mi verrebbe dire, non più neanche tanto recentemente dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati e dal nostro codice privacy, così come recentemente novellato, che protegge il dato e l'informazione in quanto veicola un contenuto che potrebbe ledere il diritto alla riservatezza di un soggetto. Quindi anche in questo caso potremmo trovarci di fronte ad un dato, ad un'informazione che nulla ha di creativo, certamente non rappresenta un segreto industriale, ma la cui diffusione potrebbe essere in contrasto con l'interesse a tutelare la privacy e la riservatezza di un soggetto. Nell'attività giornalistica ci si trova a dover trattare informazioni che possono essere riconducibili a tutti questi settori, tutti questi ambiti di tutela che abbiamo considerato, non solo. È possibile anche che un'informazione sia soggetta alla tutela di più di una di queste normative, di più di uno di questi settori del diritto. E quindi è assolutamente fondamentale quando ci troviamo innanzi ad un'informazione e vogliamo ovviamente divulgarla in ossequio a quello che poi è il nostro compito, anche il diritto ad informare, che ovviamente è fondamentale, un'operazione fondamentale è quella di saper correttamente classificare questa informazione e sapere qual è la normativa di riferimento di cui dobbiamo tener conto per evitare che ci sia appunto una lesione di un interesse. È normale che in un sistema di diritto tutti gli interessi fondamentali come certamente è il diritto all'informazione, alla libertà di espressione, trovino comunque delle limitazioni. delle limitazioni devono essere diciamo correttamente bilanciate per evitare che appunto l'esercizio di un diritto non finisca per ledere un altro diritto di pari rango ugualmente rappresentativo. Allora le considerazioni che abbiamo svolto noi le possiamo applicare rispetto a tantissimi contenuti. Allora un articolo di giornale che forse è l'esempio più semplice tendenzialmente è un contenuto protetto dalla legge sul diritto d'autore perché l'articolo è un qualcosa che va oltre la notizia il fatto il dato l'articolo di giornale è la notizia il fatto descritta da un autore secondo modalità proprie più o meno creative ma che certamente rappresentano il prodotto intellettuale di un autore di un soggetto specifico e quindi quando noi valutiamo la possibilità o meno di ridistribuire e ridiffondere un articolo scritto da qualcun altro noi dobbiamo assolutamente tenere in debita considerazione la normativa autoriale normativa che peraltro ha ben presente gli interessi per esempio che ci sono alla divulgazione di un'informazione la normativa autoriale incontra dei limiti noi ne abbiamo parlato tante volte nei talk che abbiamo ottenuto qui al festival per esempio l'articolo 65 della legge sul diritto d'autore che riguarda gli articoli di cronaca che noi sappiamo possiamo ridistribuire salve particolari condizioni tipo la riproduzione riservata che noi possiamo ridistribuire citando l'autore ma senza dover chiedere un consenso specifico o ci sono altre eccezioni per esempio quelle per istra dell'articolo 70 sempre della legge sul diritto d'autore situazioni nelle quali la normativa fa proprio questa valutazione di calcolo di bilanciamento di interessi e all'interno di quella valutazione si ritiene prevalente la finalità di diffondere quell'informazione rispetto all'interesse di tutelare l'autore discorsi abbastanza analoghi si possono svolgere rispetto ad altri contenuti che sono tipicamente protetti dalla legge sul diritto d'autore una fotografia su una fotografia cosa possiamo dire sempre con una certa una certa sintesi possiamo dire che la legge sul diritto d'autore in realtà considera due tipi di riproduzione fotografiche differenti l'opera fotografica e la fotografia semplice quindi noi sappiamo che l'opera fotografica lo dice il termine stesso è un qualcosa di particolarmente creativo cioè una fotografia che rappresenta un elemento e lo come dire arricchisce del processo creativo del fotografo dell'autore le luci l'inquadratura il tipo di postproduzione che può applicarsi a quel l'opera fotografica è un'opera protetta dal diritto d'autore nella maniera più classica quindi durata della protezione 70 anni per poter riutilizzare un'opera fotografica devo avere una licenza devo avere un'autorizzazione da parte dell'autore oppure tornano ancora valide le eccezioni di cui abbiamo parlato prima perché l'articolo 65 ovviamente che riguarda un fatto di cronaca può applicarsi anche ad una fotografia che riguarda un fatto di cronaca l'articolo 70 può applicarsi stesso discorso vale per gli audiovisivi ecco dicevo non tutte le fotografie effettivamente sono protette dal diritto d'autore allo stesso modo perché le fotografie semplici cioè la rappresentazione di un fatto di un oggetto di un avvenimento priva di quelle caratteristiche di creatività è protetta dal diritto d'autore ma con una protezione diversa per esempio con una durata inferiore e con caratteristiche diciamo per esempio non sono previsti diritti morali perché non c'è quella protezione si protegge prevalentemente il valore economico di quella fotografia l'investimento che ha fatto il fotografo in quel momento ci sono tantissime fotografie soprattutto in ambito giornalistico che non riescono a soddisfare pienamente i caratteri di creatività del diritto d'autore ma che hanno un valore perché il valore è rappresentato semplicemente dal fatto che tu eri lì in quel momento hai scattato quella fotografia voi insomma dire un concetto che capite molto bene meglio voi di me direi lo stesso discorso si può applicare agli audiovisivi ecco però che per esempio quando noi parliamo di fotografie ed audiovisivi siamo in un settore nel quale i tre aspetti di cui abbiamo considerato prima possono anche intersecarsi tra loro non è facile immaginare una fotografia non è difficile scusate immaginare una fotografia che magari non ha i caratteri di creatività ma riprende il volto di una persona quindi nel momento in cui io mi trovo a dover gestire quel contenuto dovrò fare una doppia valutazione o i diritti autoriali o il diritto diciamo dei vent'anni della fotografia semplice di poter ridistribuire quel contenuto o una licenza sempre diciamo nell'ambito autoriale che mi consente di riutilizzare quel contenuto sì o no superato questo step io mi devo fare un altro tipo di valutazione però quella fotografia è un dato personale perché per esempio riprende il volto di una persona oppure noi sappiamo che il volto non è l'unico elemento determinante perché la normativa sulla protezione dei dati ci dice che quando un contenuto è riconducibile anche indirettamente ad un soggetto gli esempi classici che si fanno in questi casi sono la fotografia di una di una gamba di una persona che però ha una cicatrice un tatuaggio la mano che ha degli anelli cioè un contenuto che non riprende il volto di una persona ma attraverso il quale è comunque possibile agganciare quel contenuto ad una persona fisica anche quello è un dato personale e quindi a questo punto io devo fare una doppia valutazione cioè devo anche capire se sotto il profilo della normativa privacy posso distribuire e diffondere quel contenuto se eventualmente devo avere un consenso dell'interessato o seppure ci sono delle finalità diciamo di interesse superiore che mi consentono di veicolare quel contenuto quindi abbiamo anche in questo caso una doppia valutazione considerazioni un po' diverse si possono fare in relazione invece alle notizie e ai fatti noi sappiamo che c'è una grossa differenza l'abbiamo detto prima tra un articolo e la notizia sulla base della quale quell'articolo viene elaborato allora la notizia di per sé non ha come dire una purpurì di elementi autoriali anche e quindi la notizia tendenzialmente è un qualcosa che si può riutilizzare senza diritti di privativa particolari così come anche i fatti e arriviamo probabilmente ad uno dei temi più discussi poi qui insomma sono in ottima compagnia per Fernanda Faini e Ernesto Belisario poi sul discorso dell'accesso ai dati open data io lascerò volentieri a loro la parola perché sono veramente esperti in questo ambito però certamente il dato è un altro contenuto sul quale si potrebbero fare moltissimi ragionamenti moltissime considerazioni allora in prima analisi mi verrebbe da dire che un dato è più simile a un fatto che ad un articolo di giornale verrebbe da dire che un dato di per sé non ha per esempio un contenuto autoriale spiccato forte non ha non porta con sé elementi di creatività e quindi sarei indotto a ritenere che sotto il profilo quantomeno della normativa autoriale i dati possano essere riprodotti abbastanza liberamente ma anche questo non è non è sempre non è sempre vero perché il nostro ordinamento e molti sistemi di diritto proteggono anche che cosa proteggono la situazione specifica nella quale i dati sono organizzati all'interno di una base di dati e per esempio la legge 633 del 41 che la legge sul diritto d'autore considera due ipotesi molto specifiche nei quali le basi di dati godono una protezione particolare gli scenari sono essenzialmente due un primo caso è quando il dato di per sé non è ovviamente protetto dalla legge sul diritto d'autore ma la base di dati è costituita in un modo che è di per sé stesso creativo cioè l'aspetto creativo è l'attività dell'autore che ha realizzato la banca dati e che quindi ha deciso di organizzare quei dati in un modo molto particolare allora è chiaro che il dato di per sé non è protetto ma estrarre dati da quella banca dati in quel modo costituita è l'esercizio di un diritto d'autore per il quale è richiesto un consenso un'autorizzazione una licenza un altro scenario diverso è quello nel quale il dato non è protetto dalla normativa autoriale la banca dati non è realizzata in modo creativo ma lo stesso la legge sul diritto d'autore protegge che cosa protegge l'investimento a questo punto essenzialmente economico di chi ha costituito quella banca di dati e quindi anche in questo scenario ci sono delle limitazioni per poter accedere estrarre ridistribuire ridiffondere quei dati perché ovviamente c'è un soggetto che è vero che ha raccolto una quantità di dati che eventualmente sono anche pubblici ma questo soggetto ha fatto un grande investimento di risorse economico di tempo di lavoro per poter collazionare e mettere insieme tutte queste informazioni e quindi questo tipo di impegno gli viene riconosciuto con un diritto di esclusivo anche qui con una durata inferiore di 15 anni invece di 70 per poter elaborare trasmettere accedere e diffondere quei dati certamente ai dati si applicano anche le altre due normative di cui abbiamo parlato tutte le norme che proteggono il segreto industriale le informazioni riservate certamente possono riguardare dei dati e certamente possono avere un rilievo importante le norme che proteggono i dati personali da questo punto di vista insomma si potrebbero dire davvero moltissime cose certamente un aspetto sul quale spenderò due parole è quello relativo all'importanza oggi di classificare i dati quantomeno sotto tre aspetti fondamentali cioè il dato personale il dato anonimo e il dato pseudonimo che è quello rispetto al quale spesso ancora si crea qualche scenario di complicazione quindi dato personale è molto semplice identificarlo è un dato che direttamente o indirettamente è riconducibile ad una persona fisica quindi quante volte in un articolo di giornale o in qualunque tipo di lavoro di ricerca occorre stare attenti perché e lo diranno molto bene i miei colleghi oggi ci sono molto spesso soprattutto nella pubblica amministrazione anche delle esigenze di trasparenza rispetto alle quali certi dati è importante che siano resi pubblici che siano divulgati ma siamo esattamente in uno scenario nel quale questa necessità di trasparenza deve essere contemperata con la tutela della riservatezza avrete letto insomma capitano abbastanza spesso problematiche di questo tipo che poi finiscono all'attenzione del garante per la protezione dei dati perché ci sono delle diffusioni di dati che sono ultronei eccessivi e che quindi l'obbligo di trasparenza va un po' oltre nel momento in cui si comunicano certe informazioni dati anonimi non creano problemi sotto il problema dal punto di vista della privacy ma possono creare un problema di riservatezza di segreto industriale i dati pseudonimi sono cosa sono sono quei dati che non portano direttamente l'indicazione quindi non sono direttamente riconducibili ad una persona fisica codici identificativi per esempio ma che in ultima analisi sono riconducibili ad una persona nel momento in cui un soggetto è sostanzialmente a disposizione dell'algoritmo che poi crea un match tra persona e dato il codice che vi viene attribuito quando entrate in un pronto soccorso quando prenotate una visita da qualche parte esiste un sistema che trasforma quel codice nel nominativo di una persona e da questo punto di vista noi dobbiamo stare molto attenti perché il dato pseudonimo è un dato personale cioè è un dato che come dire viene trasmesso già con un sistema di protezione importante perché effettivamente non viene veicolato in chiaro mi verrebbe da dire però in ultima analisi è un dato che può tornare a essere trasformato in un dato personale e quindi anche il dato pseudonimo va trattato con particolare attenzione ovviamente in questo discorso non includo forme di pseudonimizzazione dei dati che oggettivamente e lo dico perché in ambito giornalistico ogni tanto questo tipo di abitudine c'è che non possono dal mio punto di vista neanche essere considerate delle forme di pseudonimizzazione in senso stretto cioè capita di leggere degli articoli giornali in cui c'è scritto il noto conduttore P.B tutti capiscono perfettamente chi è ecco è chiaro che quel tipo di contenuto non lo considero neanche un dato pseudonimo mi verrebbe da considerarlo quasi come un dato personale e quindi particolari attenzioni anche nell'utilizzare questi come dire escamotage che poi più di tanto non lo sono perché effettivamente in quel modo c'è una comunicazione di dati personali in senso stretto è chiaro che cercare così in poco più di un quarto d'ora di 20 minuti di condensare tanti aspetti diventa diventa complesso questo diciamo che è il tentativo di rappresentare quali sono i tre aspetti fondamentali che noi dobbiamo considerare quando trattiamo informazioni dati proprio con quella finalità di condivisione che ripeto io per primo che mi occupo diciamo da 20 anni di diritto d'autore sento davvero come in questo periodo storico importante sono perfettamente consapevole del fatto che in certi casi oggi forse un passo indietro va fatto perché la necessità di condividere l'informazione diventa fondamentale però tenete sempre conto che anche i diritti fondamentali incontrano dei limiti dei limiti che sono proprio quelli dell'evitare di andare a calpestare altri interessi altrettanto importanti lascerei quindi la parola a Fernanda che sicuramente ha delle cose molto interessanti da tempo soltanto per il cambio delle slide no ah ok grazie allora intanto permettetemi di dire che bello essere a Perugia che bello il Festival del Giornalismo e che bello vedervi di fronte a noi insomma quindi aprirei con questo entusiasmo della ripresa della vita e anche del Festival del Giornalismo allora molto brevemente abbiamo visto grazie a Matteo quali sono i diritti che vengono in gioco nel caso anche degli insiemi di dati quello che cercherò di fare in pochi minuti è di dare qualche indicazione riguardo alla tipo una tipologia una configurazione per meglio dire di dati che sono i dati di tipo aperto gli open data perché possono essere molto utili in realtà anche proprio per i giornalisti per la configurazione che questi dati effettivamente hanno che cosa sono i dati di tipo aperto sono dati in cui quello che si rende possibile a chiunque altro è non solo di usare di vedere di poter fruire del dato ma di riutilizzarlo perfini anche diversi da quelli originari questo è molto importante soprattutto se i dati sono dati per esempio della pubblica amministrazione naturalmente non è detto che questa tipologia di dati aperti sia solo in quel contesto certamente quel contesto ha visto una maggior diciamo un maggior numero di dati messi a disposizione proprio per la tipologia di ente e quindi naturalmente non avendo scopo di lucro sono più facilmente messi a disposizione anche a seguito della norma seguendo un po' quello che abbiamo sentito fino adesso se vogliamo capire quando un dato è aperto e che cosa possiamo farci dobbiamo in realtà tenere in considerazione tre dimensioni quella giuridica ma ce lo dice la norma una norma italiana che è nel contesto pubblico che sul quale soprattutto parlerò ma non è l'unico in cui possiamo incontrare dati aperti la dimensione giuridica è quella per la quale i dati sono resi disponibili con una licenza o una previsione normativa che consente il riutilizzo per finalità diverse questo cosa vuol dire che in questo caso il soggetto non dovrà chiedere l'autorizzazione a chi è titolare del dato ma ci sarà una licenza che preventivamente in modo aperto consentirà appunto il riutilizzo del dato stesso sono dati che sono in formato aperto anche da un punto di vista tecnico che è variabile naturalmente un grado di apertura a livello tecnico che può essere più o meno efficace e quindi può permettere più o meno in realtà la combinazione con altri dati accompagnati da metadati che ci descrivono quel dataset ci danno una serie di informazioni per esempio l'aggiornamento del dato che chiaramente se pensiamo per esempio a un'inchiesta su un insieme dei dati è un dato fondamentale e naturalmente sono dati resi disponibili gratuitamente quindi sono un patrimonio informativo che posso riutilizzare per tentare di estrarre evidentemente conoscenze pertanto in questo caso rispetto a quanto abbiamo sentito abbiamo un titolare del dato che a cui non andiamo a chiedere caso per caso la possibilità di riutilizzare del dato ma questa possibilità ci è data preventivamente nel momento in cui l'insieme di dati è messo a disposizione perché questi dati sono accompagnati da licenze cosiddette aperte licenze che conferiscono una serie di possibilità ai soggetti terzi che possono essere licenze svariate e che di norma dovrebbero garantire qualsiasi possibilità a parte il rispetto del diritto morale d'autore perché evidentemente su questo per il nostro ordinamento e per diciamo gli ordinamenti europei c'è una inalienabilità e un'imprescrittibilità che comporta il diritto morale deve essere rispettato quindi utilizzo i dati di un ministero dirò che ho fatto qualcosa con quei dati e dirò quei dati di chi ero ma ciò sarà sufficiente in questo caso avremo come tipologia di licenza prendendo un esempio tra quelli che vedete all'interno della slide avremo per esempio se fosse una creative commons una creative commons cosiddetta by attribuzione quindi riteniamo valida soltanto cioè quello che rispettiamo il diritto morale d'autore per il resto possiamo anche utilizzare quei dati per finalità diverse anche per finalità commerciali ed è questo che è particolarmente rivoluzionario soprattutto se i dati sono chiaramente dati messi a disposizione dal pubblico perché è chiaro che la finalità sarà in questo caso molto diversa da quella per cui quei dati sono stati prodotti e sono stati generati in altri ordinamenti esiste anche la creative commons zero però sottolineo che nel nostro ordinamento il diritto morale d'autore in realtà deve essere rispettato a livello normativo oltre a questo naturalmente come trovarli questi dati la forma della licenza non è solo giuridica ovviamente e non è solo quei simboli che vi facevo vedere nella slide precedente ma è anche una forma digitale per cui possono essere fatte ricerche in rete per trovare insieme di dati che naturalmente sono accompagnati da licenze di tipo aperto e quindi questo mi permette di avere un insieme di dati e poi da questi dati naturalmente poter fare analisi poter fare indagini inchieste e quant'altro tecnologicamente troveremo dati molto diversi purtroppo cioè tutti aspiriamo ai link and open data dove i dati sono già collegati ad altri dati e quindi hanno già un valore intrinseco che posso utilizzare ma potrei anche imbattermi in dati che in realtà hanno un grado di apertura a livello tecnico che è scarso se non inesistente perché naturalmente se metto a disposizione un pdf o formati del genere in realtà il dato dato che avrà una licenza di accompagnamento che permette di riutilizzarlo sarà riutilizzabile ma dovrò fare un lavoro a livello tecnico per far sì che quel dato effettivamente tecnicamente lo possa riutilizzare la scala è in questo senso se è messa a disposizione in modo con software di tipo proprietario non proprietario se è già indicizzabile indirizzabile in rete oppure se addirittura come vi dicevo è collegato già ad altri dati che cosa ci facciamo con questi dati beh chiaramente visto il contesto anche analisi che possono essere utili da un punto di vista di estrazione della conoscenza gli insiemi dei dati non sono neutri in realtà perché dicono qualcosa dicono qualcosa e può essere di interesse e che è opportuno magari svelare quindi sicuramente il motivo per cui c'è particolare interesse da questo punto di vista è un motivo anche prettamente economico per la possibilità di realizzare applicazioni prodotti ma sicuramente riuscire a utilizzare in modo proficuo questi dati permette anche di garantire una forma di conoscenza e trasparenza e quindi può essere impiegato in modo proficuo da chi fa questa professione proviamo a vedere qualche esempio credo che questa dashboard la conosciamo tutti ormai se pensiamo ai dati sull'andamento della situazione pandemica in realtà non lo vediamo bene ma quei dati proprio anche per pressioni da parte della società civile sono stati rilasciati in formato di tipo aperto tra l'altro è interessante questo esempio perché ci fa comprendere il valore dei dati sui dati sono state decise anche limitazioni in realtà alle nostre libertà personali in base all'andamento dei dati questi dati sono stati rilasciati in formato di tipo aperto pertanto riutilizzabili dall'esterno e è interessante osservare la campagna dati bene comune che si è diciamo ha cominciato la propria attività nel 2020 con la pandemia ma non si è arrestata perché adesso quello che viene richiesto è l'apertura di tutti i dati relativi dal pnrr quindi in realtà poi ha trovato obiettivi ulteriori di particolare interesse e naturalmente chiunque può partecipare a questo e quindi diciamo da parte della società civile c'è una spinta alla messa a disposizione in modo aperto del dato proprio perché questo permette con la combinazione di altri dati di poter conoscere in modo diverso i fenomeni i fatti sottostanti a quei dati gli esempi sono svariati che possiamo fare alcuni sono particolarmente noti e non mi soffermerò neanche come Moniton che mette insieme un aspetto pubblico e un aspetto della società civile in cui si è cercato insomma di vedere monitorare l'utilizzo dei fondi sempre fondi pubblici o ancora i beni confiscati alle mafie che è sempre un esempio che possiamo riportare in cui l'utilizzo appunto dei dati di tipo aperto porta a aumentare il grado di conoscenza pertanto da questo punto di vista sono particolarmente utili norme perché le norme sono interessanti perché ci dicono che cosa devono fare le amministrazioni pubbliche per quanto riguarda la messa a disposizione dei dati in modo aperto e ci dicono quindi che cosa ci possiamo aspettare da un ente pubblico sono norme svariate che derivano in realtà da un quadro sovranazionale che è in continua evoluzione qui vedete soltanto la lista delle norme di riferimento è interessante dire che le direttive sono cambiate nel corso degli anni e c'è attualmente una proposta di regolamento europeo che promuove ulteriormente la disponibilità dei dati da parte degli enti pubblici anche laddove siano oggetto di diritti di terzi quindi l'idea e la volontà da parte del legislatore sovranazionale e nazionale è quella di mettere a disposizione del pubblico i dati delle amministrazioni per il valore che in realtà questi dati effettivamente possiedono quindi davanti a un'amministrazione che cosa in realtà dovremmo trovare dovremmo quantomeno avere un catalogo di dati e di metadati e dei regolamenti relativi a questo proprio per un principio di disponibilità dei dati laddove non ci sia la licenza di tipo aperto si intendono rilasciati con una licenza di tipo aperto ci sono linee guida costantemente nel corso degli anni prodotte dall'Agenzia per l'Italia Digitale che danno indicazioni su questo perché l'aspetto su cui ancora dobbiamo diciamo come anche Paese fare qualche passo è proprio l'omogeneità pertanto riuscire a mettere a disposizione tutti quei dati e si potrebbero anche quelle serie di dati che hanno un valore e che non sono in realtà coperti da altri diritti come la protezione dei dati personali che invece mi pongono delle limitazioni evidenti al riutilizzo degli stessi e poi c'è una norma particolarmente importante da tenere in considerazione che troviamo nel decreto legislativo 33 del 2013 modificato con quello che è stato chiamato il Freedom of Information Act che in realtà garantisce non solo a chiunque di chiedere dati e informazioni ma garantisce anche che quei dati siano rilasciati in formato aperto con un obbligo soltanto ovviamente di rispettarne l'integrità e questo è un po' sottinteso a tutto quello che ci siamo detti finora ma anche di citare la fonte ovviamente quindi l'attribuzione di cui parlavamo questo cosa vuol dire che se il dato non è già pubblicato non è detto che non possa in realtà chiederlo e che appunto non possa in realtà avere a disposizione dei dati di riferimento per poter appunto eventualmente svolgere delle analisi di riferimento ci sono degli ostacoli sì riprendendo quello che diceva prima Matteo sicuramente un primo problema è nel caso in cui questi dati siano dati di tipo personale evidentemente perché in questo caso la pubblicazione degli stessi non comporta il libero riutilizzo ci sono stati vari atti insomma anche linee guida sotto questo profilo da parte del garante proprio per sottolineare questo aspetto perché qua invece riemerge il principio per cui il riutilizzo è possibile solo in termini non incompatibili con gli scopi originari e voi capite nel caso del contesto pubblico riduciamo molto la possibilità di riutilizzare quel dato e poi alcuni dati non sono proprio riutilizzabili questi sono gli ostacoli e limiti le possibilità che abbiamo sono di visionare e poter fruire e riutilizzare di dati che troviamo in un insieme di portali diversi che vanno dal livello europeo di riferimento ora è un portale unico un tempo erano due portali è un portale unico che raccoglie anche dati degli stati membri pertanto è un collettore molto importante oltre ad avere dati di tipo aperto delle istituzioni europee oltre a questo abbiamo a disposizione naturalmente un sito un portale nazionale che è dati.gov e anche qua le ricerche che possono essere fatte sono per categoria tematica per licenza a seconda appunto di cosa ci interessa da questo punto di vista ci sono anche portali territoriali ma anche in questo caso il portale nazionale è un aggregatore ci sono portali come vi dicevo di iniziative civiche io ho fatto soltanto qualche esempio ma ce ne sono davvero svariati e anche portali verticali messi a disposizione a livello centrale per esempio open demand open cantieri su alcuni aspetti specifici che mettono a disposizione dati di interesse ci sono software spesso open source non è detto siano sempre ma spesso lo sono che ci permettono su quei dati di fare qualcosa può essere una mappa una visualizzazione un'analisi e quindi di sfruttarli e naturalmente è chiaro devono essere impiegati per poter in realtà tirare fuori da quel dato estrarne la conoscenza di riferimento e oltre a questo naturalmente potrebbe essere potrebbe succedere purtroppo succede che non tutti i dati che possiamo immaginare essere a disposizione seppur dati chiaramente anonimi quei dati magari non sono a disposizione quello che possiamo fare è chiederli in realtà all'amministrazione pubblica molti portali garantiscano con forme molto semplici la possibilità di richiedere data set in formato aperto e quindi stimolare la messa a disposizione dei dati stessi molti sono portali regionali ma anche chiaramente di amministrazioni centrali per cui ci sono portali dedicati a questo che permettono anche un'interazione e poi naturalmente come vi dicevo possiamo utilizzare laddove questi dati non siano già pubblicati l'accesso civico generalizzato che è garantito dal Freedom of Information Act che non ha bisogno di legittimazioni soggettive per cui non c'è bisogno di essere interessati al procedimento non c'è bisogno di motivazione non c'è limite a un controllo generalizzato quindi posso chiedere quei dati abbiamo visto che quei dati devono essere rilasciati poi anche comunque in formato aperto tranne naturalmente i limiti giuridici derivanti da altri diritti e il provvedimento in tal caso deve essere espresso e motivato da parte dell'amministrazione quindi il silenzio che magari a volte purtroppo succede concretamente ma non dovrebbe succedere o almeno non è legalmente consentito io vi ringrazio ricordando sempre che i dati se fanno tanto determinano molto nelle nostre vite sempre perché qualcuno ha preso quei dati e ci ha fatto qualcosa quindi penso che sia il caso di utilizzarli e lascio la parola a questo punto a Ernesto per appunto approfondire ulteriori aspetti relativi ai dati aperti dunque buongiorno buongiorno a tutti io mi associo innanzitutto alla manifestazione di gioia nell'essere qui nel parlarvi e quindi ringrazio ringrazio Arianna Ciccone per l'organizzazione del festival ci voleva l'aspettavamo ringrazio Giovanni Ziccardi per avermi coinvolto ringrazio i miei compagni di panel di oggi ringrazio voi per l'attenzione ringrazio tutti gli scienziati che hanno lavorato ai vaccini che ci hanno consentito di essere qui oggi secondo me non dovremmo dimenticarlo non dovremmo dimenticarlo troppo presto se siamo qui oggi e perché la scienza ha lavorato per noi e visto che parliamo in un festival del giornalismo nonostante tutta la disinformazione credo che siano dei punti che dobbiamo mettere sempre ben in chiaro ovviamente tutto questo serviva anche guadagnare il tempo necessario a mettere a mettere le slide ma si sa gli avvocati da questo punto di vista sono bravi a riempire il vuoto con parole si spera di senso dunque il bello di arrivare alla fine è che tante cose sono già state dette e soprattutto che ho tantissimi spunti il brutto è che mi mancano sette minuti vedo il nostro amico che ci farà il giro quindi se mancherà qualcosa dalla mia esposizione potrò sempre dare la colpa al tempo che manca scherzi a parte io sono un amministrativista quindi la mia mi occupo di diritto amministrativo ovviamente diritto delle tecnologie la visuale che provo a portarvi diciamo unisce alcuni dei puntini che sono stati tracciati prima e provo a darvi una visuale faccio un piccolo spoiler visto che abbiamo poco tempo lo spoiler è le norme ci sono Fernanda le ha raccontate molto bene l'applicazione diciamo che lascia qualcosa a desiderare detto questo parto dallo spunto iniziale perché forse voglio provare a trovare un'attualità dice in questo momento ci sono cose più importanti dei dati io mica lo so se è vero mi spiego parlando ad un festival del giornalismo in questi anni abbiamo capito delle cose della pandemia grazie ai dati e Fernanda ha fatto vedere come i dati di pubblica amministrazione siamo stati importanti noi alle 18 aspettavamo non solo la conferenza stampa ma aspettavamo che qualcuno pubblicasse quei dati non solo adesso c'è la guerra grazie a delle istanze di accesso generalizzato possiamo sapere se la base militare di Sigonella viene utilizzata per determinate operazioni che possono essere compiute attacchi di droni militari ne abbiamo sentito parlare siamo sempre nell'epoca in cui possiamo seguire i voli degli aerei dei gerarchi russi su Twitter perché c'è qualcuno che prende quei dati ne fa qualcosa e traccia determinate informazioni quindi l'accesso al dato e all'informazione io lo vedo per quello che è e cioè uno strumento strumento di cosa? strumento di trasparenza partecipazione e promozione di battito pubblico faccio un esempio flash poi dopo provo a dare struttura a questi pensieri sparsi voi sapete Fernanda lo ha detto esiste la norma sul diritto di accesso generalizzato il diritto di accesso generalizzato FOIA non è qualcosa che può essere misurato per cui dice quante istanze ci sono state FOIA nel 2019 quante istanze ci sono state nel 2020 ah c'è stata una riduzione cosa significa no? io me lo sono come dire mi interrogo perché ogni tanto vedo questi dati provo a dargli un senso facciamo un periodo ipotetico dell'irrealtà mettete conto che al ministero dell'interno ci sia un ministro che chiude i porti una cosa impossibile no? ovviamente un periodo ipotetico dell'irrealtà riuscite a seguirmi? è fisiologico immaginare che ci sarà un'impennata di stanze di accesso perché? perché in quel momento l'attenzione dell'opinione pubblica tutti i giornali e i telegiornali parlano di quella cosa le persone vogliono saperlo i giornalisti chiedono di saperlo mettiamo conto che il ministro di dopo non chiuda nulla ah spoiler poi con le stanze di accesso si scopre che nessun provvedimento ha chiuso mai nulla ma questo è anche il fact checking che poi fanno i giornalisti è ovvio che il ministro di dopo arriva non chiude i porti o meglio non dice di chiudere qualcosa che non ha chiuso effettivamente le istanze diminuiscono diminuiscono perché le persone non sono più attente? no perché l'accesso al dato e il riutilizzo del dato e la richiesta di accesso al dato è strumentale alla partecipazione quindi non valutiamo questo lo dico a tutti non valutiamo in termini meramente numerici quanti hanno scaricato il dato quanti hanno fatto una richiesta di accesso perché quel dato ci dice poco se non lo incrociamo col contesto che il contesto è il dibattito pubblico dell'esercizio di diritti civili e sociali detto questo Fernanda giustamente vi ha raccontato come esistono delle norme che da anni promuovono l'apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni dopodiché proviamo ad andare a vedere quello che succede nella nella pratica allora questa è una immagine del David Michelangelo perché forse voi sapete che in Italia c'è una norma speciale che è il codice dei beni culturali il codice dei beni culturali ha due articoli articolo 107 e 108 che prevedono che ci sia un'autorizzazione che deve dare l'istituzione culturale che detiene un'opera per poter autorizzare la riproduzione fino al 2014 anche le riproduzioni per fini personali erano illegali tollerate ma illegali poi c'è stato il cosiddetto decreto art bonus e quindi c'è stata una liberalizzazione di quello che di fatto era già liberalizzato ma quello che mancava che manca ancora è l'utilizzo per finalità lucrative questa ordinanza del tribunale di Firenze del 26 ottobre 2017 è relativa ad un'agenzia di viaggi che aveva utilizzato per materiale promozionale promuoveva dei pacchetti turistici e vendita di biglietti utilizzava ovviamente visto che vendeva dei pacchetti turistici su Firenze l'immagine senza autorizzazione e ovviamente ha ottenuto il ministero un'inibitoria dal tribunale di Firenze attenzione e di ieri credo la statistica per cui gli uffizi sono l'istituzione della cultura più visitata in Italia non lo so mi è venuto in mente visto che gli uffizi hanno fatto un ottimo lavoro sui social network quindi sull'utilizzo delle immagini sono anche presenti su TikTok chissà se questo approccio inibitorio se forse inibire l'accesso subordinandolo a un'utilizzazione lucrativa oppure dovrebbe essere un mio interesse che soggetti che costruiscono business che di fatto porta visitatori e lavoro possa quindi l'accesso e riutilizzo non sono mai leve neutre perché noi siamo giuristi poi alla fine c'è sempre un assetto di interessi cosa sto tutelando un modello di business dovremmo andare a vedere effettivamente se quella licenza quelle autorizzazioni in senso il 107 e il 108 codice beni culturali producono più di quello che tolgono non tanto al mercato perché è ovvio che quello è un operatore di mercato e noi viviamo in un paese dove si sa chi fa soldi è brutto, sporco e cattivo per definizione nel senso che le finalità lucrative i soldi si fanno ma non si dicono e però dobbiamo ragionare in ottica di promozione dell'interesse pubblico il lavoro fatto di pubblicazione di contenuti documenti degli uffizi ci dice senza nulla togliere agli uffizi il Colosseo che lo era stato per anni evidentemente non ha lo stesso lo stesso tipo di approccio complimenti a chi è stato è stato molto bravo faccio un'altra un altro esempio di privativi o finte tali un esempio che disclaimer io ho seguito come avvocato quindi ne sono come dire totalmente trasparente visto che parleranno di trasparenza è l'esempio di Trenit non so se lo ricordate tre anni fa una start up che si occupa di chi prendeva i treni prima della pandemia utilizzava Trenit un'applicazione per avere orari ritardi dei treni e costo del biglietto c'era stata una inibitoria ottenuta da Trenitalia che diceva quindi società un organismo di diritto pubblico interamente controllata dallo Stato che diceva il DB database che io espongo quello che voi potete consultare attraverso il sito e l'app di Trenitalia che quindi è formato in qualche parte sì con i soldi degli utenti ma anche insomma con i soldi della collettività è mio solo io lo posso pubblicare ed utilizzare e inibisco attività di scraping che venivano ritenute parassitarie fortunatamente il Tribunale di Roma ha ribaltato questo con un provvedimento del settembre del 2019 dicendo che effettivamente nel momento in cui un soggetto vi è più pubblico che rende noti quei dati non può inibire attività di scraping anche se finalizzate alla erogazione di un servizio naturalmente per finalità lucrative Trenit non è una confraternita di beneficenza ma è una società di diritto inglese che eroga quel tipo di servizio gratuitamente per gli utenti ma naturalmente con un proprio modello di business ovviamente appunto se riuscissimo a superare questo principio che per seguire un modello di business non è un crimine di per sé secondo me faremo un bel passo in avanti anche per per lo sviluppo dell'amministrazione nel senso che un'amministrazione lo diceva prima Fernanda che metta nell'era della società dell'informazione a disposizione contenuti che altri riutilizzano per creare posti di lavoro e ricchezza secondo me è un'amministrazione che tutti dovremmo lodare non dovremmo reprimere o fare oggetto di critiche cito altre due cose poi veloce tranquillizzo il nostro amico perché dice se già il primo giorno c'è qualcuno che sfora è un disastro ed è un pessimo auspicio per tutta la settimana il secondo il precedente che voglio ricordare a livello di sentenza è un precedente sempre in ambito turistico nel senso un operatore turistico ha utilizzato una fotografia in quel caso che era stata rilasciata sotto licenza creative commons era una licenza attribution quindi richiedeva la citazione della fonte ma vietava l'utilizzo commerciale invece un operatore turistico aveva preso quella fotografia la classica cosa che fanno molti devo dire qualche volta la fanno anche i giornali google immagini prendono incuranti dei termini di licenza la fretta dicono ma diciamo la fretta in questo caso forse non era nemmeno la fretta l'hanno presa l'hanno pubblicata sul sito e l'hanno pubblicata è stata anche sulla pagina facebook e giustamente il tribunale di milano ha stabilito che la violazione dei termini della licenza doveva non soltanto portare alla dichiarazione della licità della condotta ma anche al ristoro che è stato fatto secondo un tariffario sia 1900 euro circa vado a memoria per una singola foto chiudo sempre per contare sulla prassi fernanda faini diceva una cosa molto importante per i giornalisti su cui ritorno il principio è andiamo sui siti delle amministrazioni sui siti delle amministrazioni ci sono già una serie di informazioni importantissime qualche volta sono nascoste qualche volta sono informati illegibili però ci sono molte informazioni se però non troviamo quello che ci interessa possiamo richiederlo ai sensi del FOIA il FOIA è il diritto di accesso generalizzato articolo 5,2 decreto 33 non devo spiegare perché non devo nemmeno dire di essere giornalista voglio questo dato questa informazione dopodiché con tutte le eccezioni del caso tutela del segreto industriale protezione dati personali l'amministrazione mi ridà quei dati e quei dati a mia volta li posso ripubblicare ricordate il caso dei verbari del comitato tecnico scientifico per fare qualche idea quei verbari sono stati pubblicati prima dalla fondazione Einaudi che a seguito di una battaglia legale con ricorso in continuo di stato li ha ottenuti e poi sono stati pubblicati dalla istituzione che cosa succede? qualche amministrazione per provare ad inibire cosa fa? nei modelli FOIA inserisce questa clausola la leggiamo insieme perché è un piccolo bestiario degli errori con la sottoscrizione della presente l'istante molto spesso il giornalista si impegna a non divulgare comunicare diffondere i dati le informazioni i documenti ricevuti a seguito dell'istanza di accesso cinico generalizzato cioè praticamente surrettiziamente nascosta nel modellino c'è un impegno assolutamente non necessario e non obbligatorio che in qualche modo vincola perché è una dichiarazione sono io che l'ho firmato perché ho trovato il modellino ovviamente il mio commento lo lascio a Homer che ci aiuta spesso con una delle sue facce la il suggerimento quindi è attenzione visto che tra l'altro non siete tenuti ad utilizzare il modellino predisposto all'amministrazione cioè se volete lo utilizzate ma come chiarito da una circolare 2 del 2017 il dipartimento della funzione pubblica se anche fate l'istanza di accesso generalizzato sulla carta del pane scritta a mano cioè quella con cui si tiene la baguette ecco va bene nel senso che non c'è necessariamente un obbligo di seguire una determinata forma va bene utilizzare il modello dell'amministrazione ma se ci sono queste bestialità assolutamente no perché con i limiti che hanno detto i colleghi prima di me il riutilizzo delle informazioni è il motivo per cui ci sono queste norme per un giornalista richiedere queste informazioni averle e leggerle e non poterne ripubblicare o parlare di fatto sarebbe come non averle e quindi violeremo la normativa io vi ringrazio per l'attenzione ovviamente ci conosciamo già con tanti di voi ed è bello rivedervi con chi non ci conosciamo Google fa il suo lavoro grazie mille e buon festival grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.